Stamattina in concomitanza con la celebrazione del giorno della memoria che si svolge al Quirinale, la prefettura di Taranto ha organizzato all'Istituto Pacinotti la cerimonia di consegna di una medaglia d'onore concessa dal Presidente della Repubblica ai cittadini militari e civili che sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. Il prefetto Umberto Guidato ha consegnato la distinzione onorifica al figlio del signor Cosimo Damiano Caforio, nato nel comune di Sava, alla presenza delle massime autorità militari, civili e delle associazioni combattentistiche d'arma della provincia ionica. Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione degli studenti del liceo Battaglini, del polo commerciale Pitagora e dell'Istituto Ferraris Quinto Egno di Taranto. Ho sempre tenuto molto alle cerimonie, tutte le cerimonie aperte ai giovani e ai giovani studenti e anche quest'anno, altri anni si è svolta il giorno delle mori in prefettura, quest'anno in una scuola. È stato organizzato ovviamente tanto a livello provinciale con il contributo del dirigente provinciale, del dirigente scolastico, della professoressa Chio che come sempre si è resa al meglio interprete di queste esigenze e con i giovani, i giovani di più istituti scolastici, per insieme vivere una giornata che è una giornata importante. Bisogna sempre di più ricordare, comprendere, capire insieme ai giovani. È importante la giornata della memoria per trasmettere ai ragazzi attraverso le testimonianze filmati, scritti, che c'è stato un momento della nostra storia nel quale la cattiveria umana ha raggiunto dei limiti estremi. Bisogna che i ragazzi sappiano che è necessario essere vigili affinché queste situazioni non abbiano a ripetersi. Nel corso della cerimonia sono state eseguite musiche al tema della Shoah ad opera dei giovani musicisti dell'Istituto Comprensivo Alfieri.